Autorità e gentili ospiti, io sono ben felice di essere qui a celebrare il centenario di Confagricoltura e ringrazio sentitamente il Presidente Gian Santi, rinnovo a lui, a tutti gli associati, a tutti gli agricoltori che sono presenti in sala ma anche in videocollegamento. Il mio più sentito augurio affinché anche nel futuro, come ormai accade già da un secolo, possiate contribuire con impegno e con passione alla crescita e al benessere del nostro Paese. Cento anni sono un pezzo importante, significativo della storia della nostra agricoltura, ne abbiamo già parlato, io ricordo la mia partecipazione all'evento dello scorso gennaio intitolato Identità e futuro, si è svolto quell'evento poche settimane prima del famoso 21 febbraio, una data che ha impresso una svolta alla storia della nostra comunità nazionale, una data che non potremmo dimenticare, perché la pandemia non ha alterato solo le nostre abitudini di vita, ma ha anche rivoluzionato i nostri progetti, ci ha costretto a ridefinire le priorità, ha modificato le agende del Governo nostro ma anche degli altri governi in tutto il mondo, da un lato mostrando l'importanza, come è stato anche detto, della cooperazione e del multilateralismo, ma dall'altro anche rivelando quanto sia importante e vitale fare affidamento soprattutto per alcune produzioni strategiche su fonti di approvvigionamento sicure quanto più prossime alle persone. Questa è anche l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti i protagonisti, tutti gli attori, tutti i partecipi e quindi gli agricoltori di quella intera filiera complessa, articolata filiera agricola agroalimentare per quello che voi avete fatto a tutti i livelli con dedizione, con passione, con responsabilità nei confronti della comunità intera nazionale nei confronti dei cittadini in tutti questi mesi difficili. Grazie al vostro impegno, grazie ai vostri sacrifici, come anche ricordava il Presidente Gian Santi nella sua relazione introduttiva, i generi alimentari non sono mai mancati negli scaffali dei negozi, negli scaffali dei supermercati e quindi sulle tavole dei cittadini. Adesso con il progressivo ritorno alla piena operatività delle attività economiche stiamo imparando a convivere con il Covid-19, ovviamente non possiamo assolutamente abbassare la guardia, ma abbiamo l'opportunità di progettare adesso con fiducia e determinazione il rilancio dell'Italia, intercettando quel desiderio anche di riscatto, di rinascita, di rigenerazione così fortemente avvertito dal nostro popolo durante la durissima prova del lockdown nazionale. Siamo consapevoli che la normalità precedente al Covid-19 non ci restituirebbe affatto il quadro di un'Italia in crescita, perché sin dalla metà degli anni 90 il Paese ha vissuto una fase di stagnazione dalla quale dobbiamo uscire e dobbiamo cogliere questa occasione in modo definitivo. Ma fra le ombre intravediamo anche molte luci e una di questa luce, una importantissima luce rappresentata dall'agricoltura italiana, lo confermano i dati. Tra il 1996 e il 2019, il periodo nel quale la produttività in Italia nel complesso è rimasta sostanzialmente confinata a una crescita media molto bassa, intorno allo 0,3%, nel settore agricolo invece abbiamo registrato una crescita media annua dell'1,5%, quindi in piena controtendenza. Il settore, quindi questo settore agricolo, si è confermato uno dei più dinamici e i primati del settore agroalimentare non si limitano solo alla dimensione economica. Come saprete la Commissione europea già prima della pandemia ha lanciato all'interno del progetto del Green Deal la strategia From Farc to Fork con l'obiettivo di preservare la sostenibilità, la biodiversità e la sicurezza all'interno delle produzioni agricole. Una recente indagine di Nomisma ci dimostra che l'agricoltura italiana si posiziona a livelli estremamente performanti rispetto agli obiettivi e al paradigma del Green Deal. Secondo i controlli infatti dell'autorità europea di settore, in Italia si registra una percentuale fra le più alte d'Europa di prodotti assolutamente privi di residui, superando anche i nostri diretti competitori. Parlo della Francia, della Spagna, della Germania e l'indagine attesta anche che i rifiuti alimentari pro capite sono inferiori del 16% rispetto alla media europea, così come in forte calo negli ultimi anni è l'impiego di agrofarmaci e di fertilizzanti. Non solo, il nostro Paese detiene il record europeo di superficie e di incidenza del biologico per seminativi e colture permanenti. ha fatto registrare negli ultimi vent'anni un netto calo pari al 12,3% delle emissioni di gas serra. Ecco, queste non sono delle mere statistiche, non sono freddi numeri. Si tratta di primati non trascurabili che raccontano molto delle nostre premure, delle nostre sensibilità di cui dobbiamo essere orgogliosi. Ma adesso possiamo essere ancora più ambiziosi. Il Governo è pronto ad avviare le azioni più strategiche per aiutare il comparto a crescere, per rafforzarne la competitività, tanto più a fronte delle difficili sfide poste dallo scenario globale dopo l'arrivo della pandemia. Questo programma europeo, Next Generation EU, ci consente di poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive che si aggiungono quindi rispetto a quelle che ci deriveranno dal nuovo quadro finanziario pluriennale. Siamo nella condizione quindi di programmare con un'attenta strategia il superamento delle tante criticità che ancora registriamo. Il nostro piano di ripresa, di resilienza, che anche il Presidente Gian Santi ha invocato per superare queste criticità, dovrà quindi costituire il motore della crescita, per accrescere ad esempio, in particolare nel mezzogiorno, la dotazione di infrastrutture di trasporto, per incrementare le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica a beneficio del settore agricolo e a tutela del nostro territorio, per ridurre il divario digitale che purtroppo colpisce soprattutto le aree interne. Ricordo, apro una digressione, che con il DPCM dello scorso 15 settembre il Governo ha autorizzato l'erogazione di 210 milioni a sostegno delle piccole e medie imprese situate nelle aree interne. Grazie a questo strumento sarà possibile concedere contributi a fondo perduto per la gestione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attività proprio in quelle zone dei comuni periferici o a bassa intensità demografica, che più di altri stanno subendo i contraccolpi dell'emergenza che stiamo vivendo. Ma più in generale il nostro piano di ripresa, di resilienza, sarà dedicato a costruire un mosaico coerente di interventi, ai quali stiamo già lavorando, anche per aiutare le filiere strategiche del Paese ad essere quindi protagoniste di questa straordinaria stagione di rilancio. Il dibattito che in questi giorni si sta sviluppando sugli organi di stampa ancora offre un dato un po' fuorviante che dobbiamo correggere. Non siamo affatto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Una preoccupazione in questo senso e assolutamente le preoccupazioni sono infondate perché il piano sarà presentato in termini indicati dalla stessa Commissione europea e ricordo che a metà ottobre potremo presentare le linee guida e i progetti andranno elaborati e poi presentati solo con l'inizio del nuovo anno. E questo è il cronoprogramma che si è dato alla Commissione europea. Ma il Governo sta già lavorando con gruppi coerenti di progetti. Con particolare riguardo al settore agroalimentare sono molte le linee di intervento che vi anticipo saranno incluse nel piano, il quale, e conviene sottolinearlo, dovrà dedicare almeno il 37% del volume delle risorse disponibili a progetti green. Ne approfitteremo per potenziare gli interventi per la prevenzione e il contrasto al distesto idrogeologico e per contrastare quei fenomeni di consumo del suolo come l'erosione da acqua che nel nostro Paese caratterizzano soprattutto i territori più marginali. Ricordava proprio qualche giorno fa Piero Bevilacqua, citando il grande storico francese Fernand Brodel, che l'agricoltura italiana si è sviluppata storicamente a seguito di processi di sboscamento e grazie anche alle bonifiche. Ed è per questa ragione che non possiamo abbassare la guardia rispetto alla resilienza delle nostre terre. Per affrontare queste sfide, il piano quindi conterrà interventi volte a migliorare funzionalità e resistenza delle foreste, a beneficio del sistema irriguo e allo scopo di incrementare la diffusione delle reti di imprese forestali. Ancora, particolare attenzione dedicheremo all'utilizzo delle nuove tecnologie di agricoltura, prevedendo la creazione, ad esempio, di una piattaforma digitale alimentata da un sistema di sensoristica da campo e da remoto, in grado di coprire almeno il 10% della superficie agricola coltivata nel mezzogiorno. Ancora, vogliamo incentivare l'adozione di tecniche di agricoltura di precisione a controllo digitale attraverso contratti di sviluppo, partenariati per l'innovazione e altri strumenti di politica industriale, creare politematici di ricerca nel settore agritech con la cooperazione fruttuosa tra il sistema universitario e quello delle imprese. Una diffusione sempre maggiore di tecnologie intelligenti potrà aiutarci a ridurre il divario fra prelievi e risorse idriche, che l'Italia è particolarmente elevato a causa della carenza strutturale di acqua nella fascia mediterranea. Nel piano inseriremo numerosi interventi per favorire l'efficienza energetica in agricoltura, l'utilizzo di una quota sempre maggiore di fonti rinnovabili nel settore, promuovendo in particolare lo sviluppo del biometano attraverso la riconversione, il potenziamento e gli impianti di digestione anaerobica e la realizzazione anche di impianti fotovoltaici sui tetti in particolare delle strutture produttive agricole e zootecniche. Non da ultimo, il piano dedicherà un ampio capitolo all'esigenza di garantire la connettività digitale a tutto il territorio. Sapete già del progetto strategico della Rete Unica Nazionale in fibra ottica e la creazione quindi anche connessa di presidi digitali da innestare nelle aree interne. Questo sistema consentirà una maggiore penetrazione digitale anche nelle aree rurali e un incremento significativo della copertura della rete mobile in queste zone. Ancora, non trascureremo affatto il sostegno alle nostre esportazioni, che sono in sofferenza ovviamente per il grave shock dovuto alla pandemia. Quindi proseguiremo, ve lo assicuro, nella lotta al falso, all'Italian Sounding, continueremo nel nostro impegno in sede europea per evitare la diffusione di sistemi di etichettatura alimentare che penalizzerebbero irragionevolmente i nostri prodotti. Rivolgendo poi lo sguardo al futuro ci impegneremo nell'attuazione del patto per l'export, che abbiamo già preannunciato e stiamo presentando in tutta Italia, una strategia innovativa per il rilancio del Made in Italy a livello mondiale, che possa consolidare la stessa affermazione sui mercati internazionali di questo Made in Italy, grazie all'integrazione di azioni come la comunicazione, l'e-commerce, la promozione anche del sistema fieristico, gli strumenti di accesso al credito. Il Governo, vi assicuro, è pienamente impegnato affinché il settore agroalimentare, che voi da un secolo con i modi eccellenti rappresentate, sia protagonista della strategia complessiva di rilancio del Paese. L'agricoltura, d'altra parte, rappresenta un sodalizio tra l'innovazione e la tradizione e questo è anche lo spirito del nostro Paese. Costituisce questo il segreto del successo italiano nel mondo e ogni giorno anche questo successo ci ricorda, d'altra parte, la vostra attività ci ricorda, come disse anche il filosofo, che la terra è la sorgente ultima di qualsiasi alimento dell'uomo. Quindi grazie e tantissimi auguri. Grazie. Grazie. Grazie.